benvenuti in questo nostro nuovo video io sono alessandro siamo in gira gira camper siamo concessionari arca per tutta la lombardia oggi vi presentiamo il motorhome h745 glc pianta che al letto nautico posteriore e letto basculante anteriore partiamo subito dalle dimensioni 7 metri 50 di lunghezza per 2 metri 35 di larghezza per 2 metri 98 di altezza 2 metri 98 vi può sembrare una misura contenuta come altezza perché questo veicolo è equipaggiato di telaio alco quindi un telaio alco è un telaio anzitutto che offre un doppio pavimento passante stivabile e anche la possibilità di essendo più basso rispetto a un telaio fiat abbassare l'altezza esterna del veicolo stesso se non l'avete ancora fatto iscrivete al canale proprio sotto qua cliccate sulla campanella che continueremo ad aggiornarvi con nuovi video nuove proposte il veicolo attualmente in pronta consegna un modello 2023 quindi l'ultimissima versione proprio presentata da casa arca casa arca che vi ricordo essere un brand italiano quindi un veicolo di fascia molto alta prodotto in toscana fa parte del gruppo triganoi arca allestisce i suoi prodotti su telaio fiat quindi quest'anno come ben sapete ci sono abbastanza difficoltà per riuscire a reperire veicoli comunque ne abbiamo in ordine diversi se siete interessati a un prodotto del genere di questa fascia contattateci pure io vi lascio il mio cellulare dopo nel successivo video anche giovanni dirà il suo il mio è 3 3 5 1 7 6 8 4 6 0 sono a vostra disposizione caratteristica del prodotto europa new deal perché questo è il naming scelto da arca per questi nuovi modelli è quello di essere completamente grigio esternamente questo perché il veicolo ha le pareti in alluminio quindi hanno permesso di essere verniciate e appunto apparire diverso rispetto ai comuni veicoli bianchi il tetto invece fatto in vetro resina la vetro resina è sicuramente un discorso di sicurezza in più per quanto riguarda la grandine ed è bianco come colore però non lo si vede se non che quando si mette una scala a fianco al tetto a fianco al veicolo per poterci salire il veicolo come vedete appunto abbiamo lasciato un adesivo per identificare che il telaio è alco questo ha permesso come vi dicevo di avere un doppio pavimento quindi questa parte è stivabile abbassa il baricentro del veicolo permette nella parte centrale posteriore l'alloggio dei serbatoi dell'acqua potabile e dell'acqua di recupero parliamo di una capacità essendo nel doppio pavimento di 145 litri di potabile e 135 di recupero quindi sicuramente una capacità maggiore rispetto agli altri veicoli naturalmente essendo stivati nel doppio pavimento sono serbatoi riscaldati e coibentati quindi veicolo assolutamente adatto all'utilizzo invernale anche perché all'interno della parete come materiale coibentante troviamo lo styrofoam x energy che è uno styrofoam di spessore ridotto rispetto ai precedenti veicoli europa che non erano new deal ma più performante quindi questo ha permesso nonostante la riduzione di spessore di alleggerire il veicolo e ovviamente ottenere delle performance sempre al top parliamo giusto per darvi un'infotecnica di un veicolo da 3.160 kg in ordine di marcia è un peso anche in questo caso contenuto perché il telaio alco pesa molto meno rispetto a un telaio fiat quindi riusciamo a guadagnare dei chili utili per lo stivaggio nel doppio pavimento troviamo dalla parte opposta ve lo faccio vedere subito gli scarichi dei serbatoi quindi anche in questo caso torna il concetto di veicolo sfruttabile per l'inverno molto molto adatto sicuramente perché sono scarichi interni ai serbatoi interni doppio pavimento perdonatemi eccoli qua li troviamo qua sono tre scarichi perché uno è dedicato allo scarico delle grigie uno allo scarico della potabile e l'altro alla parzializzazione del serbatoio della potabile a 20 litri che è quello che serve per fare l'omologazione del veicolo parliamo di un veicolo patente b quattro posti omologati per viaggiare quattro posti per dormire tornando sul discorso esterno troviamo di serie su tutta la gamma europa new deal la chiusura centralizzata di tutti gli sportelloni e della porta cellula e della porta guida ad eccezione della cassetta vc tetford e del vano bombole perché il vano bombole non può avere contatti elettrici all'interno la centralizzata la trovate sulla chiave quindi con un tasto fate l'apertura con l'altro tasto fate la chiusura generale di tutti gli sportelli appunto questo sportello integra l'alloggio per due bombole da 10 kg cada una e di serie troviamo già il discorso del duo control con relativi filtri quindi la possibilità di collegare entrambe le bombole contemporaneamente quando finisce una bombola passa sull'altra bombola in automatico e i filtri servono a trattenere le impurità contenute nelle bombole del gas le bandelle degli europa new deal sono in alluminio verniciato anch'esso di grigio più scuro come tonalità rispetto al resto quindi molto bello molto performanti anche durature nel tempo presa della 220 volt questa è chiusa comunque c'è la sede per la cassetta del vc una cassetta da 17 litri di capacità estraibile svuotabile con le rotelle cerchi in lega da 16 sono una dotazione di serie sul veicolo la base di partenza è un ducato 22 140 cavalli euro 6 di temp di def perdonatemi con la possibilità di fare un upgrade a 180 cavalli quest'anno sono soltanto due le scelte che fiat offre in commercio proseguiamo troviamo il tappo di carico del serbatoio della potabile lo vedete molto basso proprio perché come vi dicevo il serbatoio è alloggiato all'interno del doppio pavimento scarico e aspirazione del combi che riscaldamento di serie sul veicolo da 6000 watt a gas c'è la possibilità opzionale di installare un 6000 watt diesel o volendo di aggiungere un vebasto diesel quindi avere in questo caso il doppio riscaldamento è un lavoro che facciamo tranquillamente noi presso la nostra ufficina qua in sede essendo concessionari arca conosciamo sicuramente molto bene il prodotto essendo poi concessionari unici per la lombardia come vi dicevo prima sicuramente potete trovare una vasta scelta di veicoli all'interno del nostro parco come dicevo al momento ne abbiamo pochi ma comunque ce ne arriveranno diversi internamente le pareti lo possiamo vedere da questo sportellone sono fatte in vetroresina quindi questo connubio tra alluminio esterno vetroresina sul tetto vetroresina interna e styrofoam x energy come isolante ha permesso al prodotto di avere dieci anni contro infiltrazioni previo tagliando annuale quindi sono dieci tagliandi che dovete eseguire presso di noi garage molto molto ampio sicuramente adatto al carico di biciclette moto 300 kg di portata quindi ovviamente attenzione perché se caricate 300 kg e vi è permesso farlo perché la struttura regge ma riducete il peso in marcia quindi dovete viaggiare in meno persone all'interno del veicolo da questa parte troviamo un'ispezione che permette di stivare ulteriori accessori dotazioni che volete portare all'interno del veicolo più fare la manutenzione infatti abbiamo intravisto il serbatoio e la pompa dell'acqua standard una presa 220 volt all'interno del garage garage naturalmente riscaldato perché arriva la bocchetta dell'aria calda la vediamo meglio dalla parte opposta e con la luce integrata passiamo nella parte posteriore del veicolo molto importante è il retro del mezzo con fanaleria a led con frecce dinamiche queste bandelle verticali sono e il paraurti sono in abs possiamo notare che sulla carteratura superiore hanno integrato la retrocamera anche questa è una dotazione sicuramente molto importante che consiglio a tutti di aggiungere lato passeggero troviamo appunto un ulteriore spazio di stivaggio e manutenzione la luce del garage e l'attacco dell'acqua esterna questa è una riscaldare anche l'acqua tramite questa doccetta da questa parte invece abbiamo uno sportello supplementare di stivaggio molto comodo perché ad esempio cavi cuneo quant'altro li possiamo mettere qua e questo che da l'accesso al combi quindi quello che vediamo è sistema di riscaldamento di boiler dell'acqua calda facile con manutenzione perché bella comoda all'interno del garage si intravedono le doghe del letto posteriore che è una dotazione standard in questo caso e possiamo vedere molto comodi questi golfari che permettono ce ne sono quattro di ancorare e legare gli oggetti che carichiamo all'interno del veicolo chiusura centralizzata che vi accennavo prima qua così troviamo l'attacco esterno del gas quindi se vogliamo cucinare possiamo farlo tranquillamente con un predisposizione per l'antenna satellitare antenna terrestre e delle prese 12 220 volt molto comodi se decido di mangiare fuori ho le mie cariche a portata di mano griglie del frigorifero frigorifero da 145 litri trivalente con funzionamento automatico il primo sportello il doppio pavimento che abbiamo visto e qua così un ulteriore sportello molto comodo che offre un ulteriore spazio di stivaggio quindi davvero qui spazio non ne manca saliamo a bordo ci vediamo fra un minuto vi spiego all'interno iscrivetevi al canale benvenuti a bordo Arche Europa New Deal H745 GLC il comfort a bordo è davvero di alto livello mi sono accomodato sul sedile passeggero che trovo realmente molto confortevole perché è sagomato doppio bracciolo regolabile in altezza e in questo caso abbiamo scelto la tapezzeria color ecopelle come tessuto entrambi i sedili sono girevoli della cabina trovo molto comodo anche il sistema di abbattimento degli schienali per poter abbassare il letto basculante fra poco ve lo mostro prima di fare questa operazione però volevo spendere due parole sul tavolo il tavolo ha una movimentazione che permette di spostarlo dove prediligete e in più un tavolo a libro quindi può essere ruotato in questa maniera in modo tale che la gamba il traslatore diventino il piano d'appoggio per questo ulteriore pezzo di tavolo che appunto si può scompattare tutti quanti trovano sicuramente un ottimo spazio a livello di vivibilità anche per mangiare o per una tipica serata in compagnia di amici lo richiudo e vi mostro con quale facilità possiamo abbattere i due schienali con semplicemente questa leva l'azioniamo si ribalta direttamente oltretutto è una leva molto comoda perché la trovo su ambe due le parti del sedile quindi a seconda della mia esigenza posso tranquillamente utilizzarne una o l'altra una volta battuti i due schienali possiamo abbassare il letto basculante in questa maniera il letto basculante che come vedete è manuale e ha una movimentazione verso il frontale del motorhome quindi permette di averla di net sempre libera per essere utilizzata non dà fastidio alla porta come invece succede su alcuni semi integrali è un letto dalle dimensioni uniformi quindi non è sagomato come sui semi integrali novità da due anni a questa parte è questo maxioblock che hanno creato sul letto basculante che offre davvero tanta luminosità al veicolo ovviamente apribile con oscurante zanzariera e contornato da una cornice in questo caso in ecopelle in tinta con la tapezzeria richiudiamo il letto belle anche le tasche al di sotto del letto basculante quindi da ambe due le parti abbiamo la possibilità di stivare ulteriormente le nostre cose ripristino velocemente questo schienale ruotando il sedile perché volevo farvi vedere anche questo spazio dedicato quindi una apertura a scomparsa con il vano che troviamo anche nella parte bassa del veicolo questa è la corrispondenza del vano esterno che abbiamo visto precedentemente quindi molto comodo per alloggiare tra virgolette a modi nascondiglio i nostri oggetti il veicolo omologato quattro posti come vi spiegavo prima quindi due posti sulla parte frontale due posti sulla dinette posteriore fronte marcia fronte marcia perché si abbatte togliendo questa parte questa cuscineria l'appoggiamo qua velocemente questa parte in legno si solleva è calamitata e con questo blocco possiamo tranquillamente sganciando poi questo schienale creare il nostro posto fronte marcia con la cintura nascosta da questo cuscino quindi sicuramente il motorhome offre un viaggio molto panoramico perché il vetro anteriore con i due vetri laterali offrono davvero tanta luminosità e visibilità soprattutto sulla parte frontale possiamo vedere l'oscurante plissettato che si può alzare e abbassare quindi non è di quelli destra e sinistra ma dall'alto verso il basso e viceversa più i due oscuranti laterali dei vetri quindi creiamo una zona sicuramente di tutto comfort e privacy ripristino velocemente la panca quindi come vedete è un'operazione davvero molto molto semplice e vi faccio notare anche il fatto che questa seduta è sagomata questo per permettere al sedile guida di ruotare agevolmente stesso concetto dalla parte opposta con l'unica differenza che quindi il sedile è sagomato anche qua da questa parte come vedete non c'è la spalletta fissa che abbiamo visto dalla parte opposta ma si può sollevare questa che diventa poi appunto come nell'altro caso l'appoggio del nostro cuscino e togliendo questi due abbiamo la trasformazione come dalla parte opposta la finestra da questo lato non è apribile l'hanno applicata solamente per un discorso di luminosità si può a vostra richiesta trasformare in apribile applicando due bracetti attenzione però alla porta ingresso che quando apre potrebbe andare a toccarla e danneggiarla troviamo un pensile con ripiano sopra la seduta del passeggero il quadro comandi quindi qui abbiamo il riscaldamento con un'accensione e spegnimento da CP plus che è il dispositivo vi ricordo programmabile quando volete voi si può accendere e spegnere in base alle vostre esigenze la centrale di comando da cui comandiamo tutte quante le utenze naturalmente zanzariera sulla porta d'ingresso che ha anche la chiusura centralizzata staffa porta tv molto utile perché può essere estratta e ruotata anche per essere vista dalla camera posteriore troviamo già la predisposizione 220 volt 12 volt satellitare e antenna tv terrestre comoda anche la tasca all'ingresso come svuotatasche molto bello il concetto di ARC essendo un doppio pavimento su telaio alco di aver ricavato anche delle botole interne al veicolo che permettono un ulteriore stivaggio oltre a quello già visto precedentemente all'esterno ne troviamo due una qua e una leggermente più avanti da questa parte questa addirittura integra una vaschetta ancora più profonda rispetto al piano classico cucina sicuramente confortevole e molto bella perché il piano è di un materiale chiamato corean che è tipo una resina di marmo quindi facile da pulire facile da mantenere molto bello esteticamente copri il lavello lavello ovviamente è un pezzo unico tutto incassato e scavato e la classica cucina a tre fuochi con piezzo elettrico finestra apribile con oscurante zanzariera predisposizione per la macchinetta del caffè quindi qua così possiamo alloggiare la nostra macchinetta del caffè e abbiamo già la presa 220 volt integrata perché questa è una predisposizione se volete montare un inverter arriva già cablata questa presa portaspezie con eventuale portarotolo ulteriori due pensili anche questi suddivisi da dei ripiani molto comodi che si possono togliere basta sollevarli e si tolgono troviamo una luce illuminata di blu molto bella notturna più le classiche tre luci normali azionabile tutto da un pulsante tutta l'illumazione ovviamente è a led lato passeggero un pensile superiore con un ulteriore pensile sopra frigorifero questo può essere dedicato all'alloggio di un forno se volete anche a microonde eventualmente frigorifero come vi dicevo è un 145-150 litri all'incirca trivalente funzionamento automatico doppia porta quindi molto comodo sicuramente la base della cucina è composta da dei cassettoni apribili con un controcassetto da questa parte che integra il porta posate un'anta di ispezione a livello tecnico e un ulteriore cassettino mentre da questa parte abbiamo un cestellone molto capiente e sotto uno leggermente più corto rispetto al precedente zona notte che può essere assolutamente separata perché la porta del bagno va abbattente da questa parte quindi possiamo creare senza problemi la divisione notte giorno la doccia sul 745 GLC è posizionata lato passeggero quindi in un ambiente distinto da quello che è il bagno di serie troviamo la pedana doccia adesso provo a entrarci giusto per darvi una dimensione mi ci muovo bene comodamente è molto luminosa perché ho un oblo 40x40 sopra di me più addirittura dei faretti touch che possono ulteriormente ampliare la vivibilità della doccia doccino molto bello anche come design con questa barra in acciaio per il portasapone il doccino poi andiamo ad applicarlo qua dove troviamo un'ulteriore luce touch il bagno dalla parte opposta ha anch'esso una dimensione molto notevole a mio giudizio il piano del bagno è sempre lo stesso materiale di quello della cucina la tazza wc è ruotabile ovviamente quindi possiamo tranquillamente trovare la nostra posizione abbiamo un pensile apribile che integra la classica presa 220 volt per il phon finestra opalina apribile con oscurante zanzariera nella parte bassa troviamo un'anta con già il portarotolo e dei ripiani zona notte molto bella letto nautico quindi comodo come accesso per ambedue gli ospiti salgono e scendono senza disturbare l'altro ulteriormente sezionabile da queste porte scorrevoli uno al lato sinistro dove sono io e uno al lato destro dalla parte opposta quindi in questo caso posso creare proprio una zona bagno totale se vado a chiudere abbattente la porta del bagno e chiudendo queste porte scorrevoli quindi anche di notte se avete ospiti qua nessuno dà fastidio a nessuno perché sono proprio ambienti separati belli ovviamente gli armadi del letto nautico perché sono due sulla testata del letto destra sinistra li trovo dalle dimensioni notevoli mi piacciono e vorrei capire da voi che cosa ne pensate se è una cosa che vi piace oppure preferite gli armadi dei letti gemelli che sono al di sotto dei letti gemelli stessi fila di due pensili sopra la testata del letto testata del letto corredata da questi cuscini che sono in dotazione molto belli e da dei faretti anch'essi led che integrano le prese usb per ricaricare i nostri device nella parte frontale del letto troviamo un cassettone e un altro cassettone sottostante da notare il dettaglio che sul letto nautico troviamo due finestre panoramiche molto molto ampie apribili oscuranti zanzariere e in questo caso anche le tende a pacchetto quindi molto interessante come proposta di serie su europa new deal troviamo anche l'impianto stereo posteriore quindi oltre alle casse anteriori ci sono anche quelle posteriori su questo veicolo abbiamo scelto di accessoriarlo con degli optional che sono l'autoradio originale fiat da 7 pollici la retrocamera e la coperta del letto che copre appunto il materasso ditemi la vostra vi piace come veicolo è un sogno o lo facciamo diventare realtà noi siamo a vostra disposizione io sono alessandro iscrivetevi al canale mi raccomando perché continueremo a fare video ci vediamo siamo a vostra disposizione al prossimo video ciao 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 ciao